Musica Biologi, docenti universitari e operatori del comparto della pesca a confronto questa mattina alla multisala della Badia Grande di Sciacca sul tema della sostenibilità della filiera etica, un'iniziativa promossa da Lega Coop Sicilia. Sono i nostri pescatori quelli a tutelare di più il mare perché non solo è la loro fonte di lavoro e di ricchezza ma sono a tutelare di quello che è ormai l'unica soluzione possibile, quella di sostenere la non scomparsa degli stock ittici che non solo sono fonte di ricchezza per noi, di sostegno vitale. L'ASVIS che sostiene i 17 gol sulla sostenibilità ritiene che gli oceani sono fonte della nostra stessa esistenza e quindi da tempo Lega Coop sostiene tutto ciò che è possibile fare per salvaguardare il mare nella sua interezza, non solo per evitare l'inquinamento attraverso gli spostamenti dei nostri pescatori, il recupero delle plastiche che vengono trasformate in prodotti nuovi, la tutela degli stock oppure anche gli impianti offshore di paleo eoliche per creare nuove energie che vengono fatte a mare in posizioni abbastanza di sicurezza. A tal proposito c'è un progetto che sta facendo discutere proprio di fronte a Porto Empedocle e qui le opinioni non sono tutte nella stessa linea, insomma c'è chi sostiene che alla fine non danneggia l'ambiente e c'è chi invece si oppone. Ma in un momento in cui con la guerra sono state ridotte tutte le nostre riserve di energia è chiaro che nessuno può dire siamo contrario, siamo a favore. Quando si tratta proprio di casa propria poi uno dice io voglio l'impianto fotovoltaico, le pale, sono d'accordo ma non sotto casa mia. È chiaro che dobbiamo tutelare i tratti di mare percorsi dei pescatori e non dobbiamo mettere delle paleoliche molto vicine perché si creano delle risonanze che allontanano i pesci. Ma è possibile fare tutto con un coordinamento ma occorre farlo e non è più inevitabile. Senta un comparto quello della pesca lo vediamo a partire dalla marineria di Sciacca in forte crisi per tutta una serie di ragioni anche a livello internazionale che hanno fatto aumentare il prezzo del gasolio. Lega Copp come sostiene queste imprese? Noi le sosteniamo chiedendo al governo di provvedere a creare subito dei sostegni perché non è possibile aspettare che si faccia un nuovo governo. Tutta una serie di provvedimenti devono essere fatti subito a partire dal contributo per il caro gasolio e non solo ma anche per tutta l'attività di trasformazione. Perché immaginate un'azienda che fa trasformazione del pesce e che ha bisogno di celle frigorifere è diventato un problema grave e quasi insostenibile. Abbiamo aziende di trasformazione non solo del pesce ma anche del latte che rischiano una chiusura. Tutelare il mare sostenendo le esigenze di tutta la filiera partendo dalle certificazioni e dalle norme in vigore sul tema si è soffermata la biologa Elena Balboni. Il mio intervento verte proprio su un'illustrazione di quelle che sono le certificazioni ittiche a disposizione per una pesca sostenibile. Quindi io parlerò in dettaglio di questo tipo di certificazione cercando di spiegare i requisiti all'interno di queste che sono sicuramente a sostegno di una pesca sostenibile. Quello che la marineria lamenta però è un eccesso di norme. Non spesso si parla di norme particolarmente stringenti soprattutto per la pesca costiera, per quella attività che viene praticata ad esempio dalla marineria di Sciacca. L'eccesso di norme c'è ma non è nel contesto delle certificazioni. Le certificazioni comunque considerano la cogenza come base da cui partire poi per dimostrare la sostenibilità della propria attività. Sicuramente la pesca è un settore normato e difficile da sostenere anche per questo motivo. Il confronto sulla sostenibilità ambientale, economica e politica del settore ittico è stato coordinato da Anna Maria Ribaudo di Lega Copp Sicilia. Questo è il secondo appuntamento, il primo è stato lo scorso luglio a Santa Flavia. Un secondo appuntamento perché la questione bisogna affrontare il tema nel modo migliore possibile per cercare gli strumenti per contrastare il cambiamento climatico. Tutti i segnali che il pianeta ogni giorno ci lancia. Il pianeta è sul dolore del collasso, siamo obbligati a diventare sostenibili. Per diventare sostenibili dobbiamo trovare degli strumenti che ci permettono di diventarlo. La filiera ittica sostenibile è uno degli strumenti fondamentali perché mette in rete quelli che sono tutti gli attori che fanno parte della filiera, a partire dal pescatore, all'industria di trasformazione fino al consumatore finale, creando delle reti virtuose. Parliamo di filiera ittica sostenibile oggi ma parliamo di sostenibilità ad ampio raggio perché è un concetto che abbraccia l'aspetto politico, economico, sociale. Quindi partiamo dalla filiera ittica ma ci spostiamo anche sul lavoro alimentare in generale. Quindi approfondiamo nuovamente il tema oggi per trovare nuove reti, per trovare nuove sinergie. È solo col confronto col territorio e con le altre associazioni e ente di rappresentanza che possiamo trovare soluzioni migliori e incamminarci verso la sostenibilità. Nell'agenda 2030 il gollo della salute del mare e degli oceani è uno dei più problematici. Il settore ittico è quello più accusato, più responsabile di cambiamento climatico, dell'impatto dell'attività umana sulla terra. Quindi dobbiamo invertire la rotta. La vicenda del caro gasolio comincia a farsi sentire un po' in tutti i comparti. La marineria è stata una delle prime a lanciare l'allarme nei mesi scorsi. Ci sono state diverse manifestazioni di protesta, poi l'estate e l'esigenza anche di assicurare al consumatore il pesce fresco. Che autunno si prospetta per il comparto? Un autunno bruttissimo. Noi abbiamo lanciato il grido d'allarme anche perché il costo del gasolio per le imprese di pesca in particolare rappresenta l'80% dei costi aziendali. Il fatto che è triplicato rispetto all'anno scorso, legato prevalentemente a questi effetti legati alla guerra, è ad elementi speculativi. Noi abbiamo chiesto più volte gli interventi da parte del governo in particolare sul credito d'imposta che ci è stato accordato in parte nella misura del 20%. Avevamo chiesto di ampliare questa possibilità di portarlo almeno al 50%, 45-50% che potesse dare una boccata di ossigeno alle nostre imprese. Ovviamente il governo ha fatto questa misura tampone ma potrebbe intervenire attraverso l'antitrasti per capire un attimo le speculazioni che sono in atto all'interno del gasolio. Non si spiega che il fatto che per esempio la benzina, il prezzo della benzina è inferiore rispetto al prezzo del gasolio. Noi abbiamo un prodotto in esenzione totale di accise però dall'altro lato il costo essendo triplicato, le nostre imprese a stento riescono a intraprendere l'attività di pesca. In questa fase nel periodo estivo. Ora l'autunno si prospetta con il calo anche della domanda della produzione, il calo quindi anche da un punto di vista della vendita del prodotto, una situazione estremamente difficile. Speriamo che il governo, alla luce del fatto che oggi è diventato un problema nazionale non solo per la filiera ittica, compresa anche l'attività dell'agricoltura, ma per tutta l'economia italiana con la crescita esorbitante dell'inflazione che ci siano degli interventi sostanziosi e che diano la possibilità con l'intervento dello Stato ma ancora di più dell'Unione Europea. Speriamo che riescono a mettere questo tetto massimo per quanto riguarda il prezzo del gas e noi auspichiamo che anche venga messo un tetto così come avveniva quando vi era il Comitato interministeriale per la programmazione economica, i cosiddetti prezzi cipe per quanto riguarda il gasolio, ancora di più per quanto riguarda gli aspetti legati all'utilizzo del gasolio per le attività produttive. E' ipotizzabile che un nuovo stop da parte della marineria, già ci sono agitazioni a Mazzara? Sì, questo diciamo con il periodo autunnale e poi con l'avvio anche del periodo invernale ovviamente non escludiamo questa ipotesi. Ovviamente in questo momento c'è questa competizione elettorale, aspettiamo che si insiedi il nuovo governo per vedere che tipo di scelte di politica economica intende intraprendere. Occorrono degli interventi ovviamente che non possono essere interventi tampone ma debbono essere degli interventi che pongano in essere quelle che sono le possibili soluzioni. Alcune di queste sono state dette, c'è un tavolo permanente presso il Ministero dell'Agricoltura, presso il Dipartimento Pesca, c'è un tavolo di confronto con l'Unione Europea. Speriamo che ci siano buoni auspici perché il problema è molto serio e tra l'altro le nostre imprese rischiano, se si dovesse aprire un bando relativamente alla demolizione delle imbarcazioni, noi stimiamo che circa il 25-30% delle nostre imprese nel porto di Sciacca e non solo nel porto di Sciacca rischiano di chiudere battenti, quindi demolendo e chiudendo e cessando l'attività di pesca. Grazie a tutti.